Vincenzo Accardo, Presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco, un problema serio affligge la vostra categoria impossibilitata in questo momento a vaccinarsi attraverso la prenotazione sulla piattaforma regionale. Cosa sta succedendo? Cosa succede? Che nel marittimo cosiddetto fantasma, andiamo sulla piattaforma, io parlo dei marittimi, del tono particolare, C.R.L., va sulla piattaforma e cosa succede? Una volta che fai tutta la procedura ti esce scritto tu non sei nessuno, sei un fantasma, perché il marittimo non ha diritto a scriversi sulla piattaforma perché facciamo parte del Stasna, della ex Cassa Marittime, dove il direttore Sarzano hanno fatto una lettera al ministro Speranza. Ho visto anche che De Luca ha fatto una campagna elettorale anche adesso sul Re 1, sta vaccinando Procida, Ischia e Capo. Ma scusate, ma Procida, Ischia e Capo, questi lavoratori turisti, ma come vanno? Con i canotti? Avete qualcosa di particolare? O vanno sempre con i traghetti? È chiaro che se il lavoratore, se il marittimo non si vaccina non può lavorare. Non può lavorare, ma lavora perché deve lavorare per forza, deve portare anche la famiglia avanti perché poi ci sono delle regole. Ma abbiamo tutti, diciamo, mascherine, guanti, ma non c'entra niente, perché sappiamo pure che qua sono morti qualcuno, i cassieri dei supermercati, l'autisti, è morta anche qualche marittimo poco tempo fa. Ma ci sono marittimi che stanno in quarantena in questo momento, sparsi per l'Italia perché ci sono quelli che cercano e si devono fare la quarantena fuori da casa, 15 giorni. Allora, chi comanda qua? Questi benedetti vaccini, quanti si li devono fare? Ma dalla Cassa Marittima cosa vi dicono? Dicono, guarda, noi abbiamo fatto un'oretta, aspettiamo questa lettera, ma sta lettera di Babbo Natale, quando deve arrivare? Uno per rispondere a un'email, il ministro Speranza, dove stanno? Abbiamo contattato pure i politici. Ma un'altra domanda faccia, la dottoressa Loretana ha capito 24 mila voti, e ha fatto tutto quanto questa campagna elettorale. Ma potete spendere un'emozione su questa cosa, perché vedete che se la regione si avvicina a Delucco, e si è dimenticato, vacciniamo pure i marittimi. Questa difficoltà nel non potersi vaccinare diventa ancora più grave per chi come lei ha già delle patologie ed è un soggetto a rischio. A rischio, sì. Sono andato a bottarsi, ha detto no, non ci appartiene a noi. Ho messo la scheda per mettere sulla piattaforma, no, non mi risponde. In Cassa Marittima ha detto no, poi non si può fare niente. Io dovevo andare per fare questo vaccino. Quindi siete proprio bloccati in questo momento. Siamo fantasmi. Poi anche altri colleghi miei che vanno a bordo delle navi e dicono che siamo mesi passeggeri, ma come mai noi il vaccino non abbiamo? Questo è il problema. Anche per lei il vaccino è necessario? Sì. C'è un problema a casa con mia moglie, che ha un problema che non sta bene di salute e non posso stare. Poi devo andare a lavorare, non posso andare a lavorare, perché mi hanno rifiutato il codice fiscale. Mi dice che non mi posso inserire nella piattaforma, perché sono marittimo, di turno particolare, ti vieni a vecchia. Adesso non so come convoltarmi perché devo andare a lavorare, non so come fare. Aiutatemi perché devo andare a lavorare. I marittimi chiedono chiarezza e che si risolva questa situazione. Ma spero che si risolva il più presto possibile, altrimenti facciamo una brutta fine. Il suo problema qual è? Il mio problema è che ho un figlio tetrapegico e quindi so che c'è una legge dove tutela i disabili che dovrebbero essere giustamente vaccinati con i familiari. Ho fatto una ricerca per farmi la vaccinazione e la risposta è sempre questa. Quindi voi avete provato ad accedere attraverso la piattaforma regionale ma il sistema non vi fa proseguire? Esatto, sì. Precisamente. Quindi lei oggi, un suo appello a chi lo vuole rivolgere? Eh, tutte le autorità competenti perché in questo caso io non so nemmeno io cosa fare. Una problematica che prescinde dalla fascia d'età. Io sono un 9-60, sono 20 giorni che è stata aperta l'iscrizione per i marittimi e sono 20 giorni, 3-4-8 giorni ho fatto vari tentativi di accesso, nulla da fare perché sono un marittimo in turno particolare automaticamente sono una persona invisibile. Io non ci sto, non esiste. Io pago le tasse, insomma, sto a bordo in contatto con i passeggeri, io non devo essere vaccinato. Resta di fatto l'ennesima situazione vergognosa con cui la vostra categoria deve fare i conti. Esatto, come questo ormai è un modus operandi di tutti e tutti il marittimo, non esiste una categoria che non abbiamo mai dato, diciamo, non ci siamo, insomma, fisicamente non esistiamo. Qualsiasi cosa il marittimo è stato sempre fuori da tutto e da tutti. E questo è l'ennesimo esempio di questa vergognosa situazione, proprio in un periodo pandemico così pericoloso per tutti, il marittimo non deve essere vaccinato.